Arriva il pallone, lo metta fuori, Cannavaro, poi ancora insiste Poloschi, Cannavaro, Cannavaro, via il contropiano col Totti, dentro il pallone per Girardino, Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca di uno contro uno, Girardino, dentro nel pieno, nel pieno, cannavaro, cannavaro, chiudete le valigie, andiamo a Berlino, andiamo a Berlino, andiamo a prenderci la coppa, andiamo a Berlino. Uno spettacolo, uno spettacolo, loro tutti avanti, tutti strutti, siamo ripartiti alla grande, ha fatto un gol del Piero, l'aveva sbagliato così nel 2000, contro la Francia finale, qui non l'ha sbagliato, l'ha messo dentro. È finita, è finita, chiudete le valigie amici, si va a Berlino Beppe, si va a Berlino Beppe. Andiamo a Berlino! Andiamo a Berlino Beppe!